ebbene carissimi amici intanto tanti auguri di buon anno da parte mia a tutti voi che mi seguite con affetto sul mio canale youtube un buon 2020 speriamo che sia un anno di grande prosperità di serenità di felicità per tutti voi ma ovviamente per voi che mi seguite del gioco del lotto che possa essere un anno vincente e voglio iniziare proprio questo nuovo anno con una novità che spero ci porti fortuna che spero ci faccia vincere ambi secchi molto belli partendo già speriamo da questo mese di gennaio oggi vi presento l'ambo ciclico l'ambo ciclico praticamente parliamo di 10 ambi secchi 10 ambi secchi statistici sulla ruota di Bari per il mese di gennaio 2020 quindi sono i migliori 10 ambi da giocare a gennaio quindi come ho scritto qui giocheremo questi 10 ambi secchi sulla ruota di Bari per tutto il mese quindi fino all'ultima estrazione di gennaio compresa mi raccomando questi sono degli ambi secchi ciclici che potete verificare voi stessi quando poi ve le andrete a ricopiare oppure stoppate il video per disegnare da qualche parte questi sono ambi che sono 10 anni che ogni anno come minimo esce un ambo di questo sulla ruota di Bari quindi ogni gennaio di ogni anno da 10 anni a questa parte uno di questi ambi come minimo cade e si vince sulla ruota di Bari quindi ci prepariamo a vincere anche a gennaio 2020 chi vuole può puntare anche l'ambetto sappiamo bene che l'ambetto non è che paghi proprio poco paga comunque una sessantina di volte la posta quindi direi che chi riesce può puntare anche l'ambetto noi puntiamo all'ambosecco chiaramente ma la vincita di ammetto potrebbe anche essere diciamo una buona vincita di supporto questo è un mio consiglio che vi do che se esce un ambosecco magari mettiamo caso in queste estrazioni o alla metà del mese quindi prima che finisca il mese gli ambi secchi si devono tenere in gioco fino all'ultimissima estrazione perché succede molto spesso che questi ambi diano anche due tre vincite di ambi in un mese sarebbe un peccato poi andare a perdere magari che ne so se escono altri due ambi un altro ambo andare a perdere delle vincite fino alla fine del mese quindi io vi faccio un grande in bocca al lupo con quest'ambociclico speriamo come ho scritto di iniziare questo 2020 veramente con il botto e questi veniamo al solo sono gli ambi secchi in gioco sulla ruota di bari 138 49 10 12 48 67 151 4 51 10 88 12 58 12 81 e infine 13 76 questi sono i 10 ambi sulla ruota di bari potete ricopiarvele potete copiare sul foglio segnali sul cellulare oppure stoppare il video e con calma potete prendere visione di questi ambi che non andremo a giocare a partire dalle estrazioni di questa sera 2 gennaio 2020 come primo colpo di gioco per tutto il mese ambo e chi esce punti anche l'ambetto speriamo di ottenere delle belle vincite da questi ambi questa è un'assoluta novità di questo gennaio 2020 questo è l'ambociclico speriamo di iniziare bene ogni mese vi andrò a proporre questi ambi secchi nella speranza di ottenere delle ottime vincite per adesso un saluto a tutti mister sbana roma